salve a tutti sono micweb e sono qui come promesso per farvi vedere come funzionano le lampade della philips queste lampade sono molto belle e vengono gestite con una particolare app del cellulare gli do un'idea di cosa si può fare semplicemente cliccando qui sono delle scene in poche parole si può cambiare l'atmosfera a seconda delle luci è molto interessante cosa si può fare attraverso attraverso ci sono anche questa questa è un app appunto questa questa app che vi faccio vedere si chiama hui disco permette di modificare il colore delle lampade con con la musica sta facendo un attimo un update e adesso qui come vedete adesso ho l'opzione di tipo disco qui ci sono vari modelli giusto per darvi l'idea cosa si può fare con le luci sembra di essere veramente in discoteca un'altra interessante app metto tutte le app sulla descrizione è questa un attimo faccio partire l'app si chiama hui manic praticamente voi si sentite il rumore del fuoco e le luci si muovono a seconda del fuoco poi sempre su questa app abbiamo qui non so se vedete fulmini è un'app gratuita c'è anche l'opzione pro l'unica cosa scomoda di questa app che ogni volta mi chiede se voglio comprare la versione pro eccola qui il senso del temporale voi direte ma mi devo andare a comprare delle lampade che costano 190 euro gusti anche questo molto carino adesso vi faccio vedere sono delle scene praticamente questa app mi dà la possibilità attraverso dei suoni di creare delle ambientazioni quindi nella stanza nel salotto se non si era se non si era capito questo è la simulazione dei fuochi d'artificio vediamo che metto un po' i fuochi d'artificio poi un'altra scena molto interessante anche questa un'atmosfera molto tranquilla per rilassarsi in poche parole poi c'è anche la versione party poi una cosa molto interessante è anche la possibilità di gestire queste luci ad esempio tra un po' tra un po' riceverò un messaggio di whatsapp e come vedete ho appena ricevuto un messaggio di whatsapp e le luci questa è un'altra cosa che volevo vorrei mostrarvi le luci si muovono al tempo di musica spero che youtube non mi tagli il video per questa musica ora voglio darvi esempio di cosa si può fare con questa musica è una notte come tutte le altre notti è una notte con qualcosa di speciale una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare vedo un turminio di gente colorata che si affogna intorno al ritmo alimentare attraversano la terra bene, grazie a tutti per l'ascolto spero di essere stato utile come dicevo 190 euro è caro come giocattolo però dopo ormai più di un mese che utilizzo queste luci posso dire pollice sopra è un gioco diciamo un un gadget molto interessante grazie per l'ascolto alla prossima grazie grazie